Tutta la nostra speranza è nella tua grande misericordia. A partire dal motto del capitolo generale degli Agostiniani Recolletti, tratto da una frase del Santo di Ippona, Papa Francesco in spagnolo esortati consacrate ad essere uomini di speranza, porne le piccolezze di ogni essere umano ma pienamente affidati a Dio, nostra sicurezza e felicità. L'invito del Pontefice è stato quello di guardare al passato, per tornare al carisma e ritrovarne l'integrità e la freschezza, ma anche non sottovalutare le difficoltà assorte e il modo in cui sono state superate. È il percorso per affrontare le sfide di oggi. Libertà e disponibilità di spirito sono poi gli elementi per vivere al meglio il presente, ponendo Dio al centro della nostra vita perché con Lui tutto è possibile. Essere dunque creatori di comunione, capaci di offrire con la presenza nel mondo una società in grado di riconoscere la dignità di ognuno e condividere il dono che ciascuno è per l'altro. Una comunità aperta e viva, detto il Papa, potrà rispondere alla necessità di ogni persona, amando come Dio ci ama. Molti aspettano di ricevere questo amore ed è questo aggiunto il potere che abbiamo. Solo la forza della misericordia, infatti, trasforma la vita. Al termine dell'incontro il Papa ha chiesto di vivere come fratelli, con un cuore solo e un'anima sola, sull'esempio di Sant'Agostino e sulle orme dei primi cristiani, senza divisioni o conflitti, ma con armonia e dialogo. Grazie a tutti.